operazione black job della guardia di finanza corruzione all'ispettorato del lavoro di catania anello ferroviario da stamattina nuova rivoluzione del traffico in centro a palermo un ricco calendario di appuntamenti culturali è previsto dalla manifestazione invisibilia che si svolgerà a palermo da domani al 31 maggio buonasera ben trovati alla prima edizione di media news di giovedì 3 maggio operazione black job della guardia di finanza corruzione all'ispettorato del lavoro di catania ai domiciliari l'ex deputato regionale forzese e altre tre persone accuse anche per il direttore sanitario dell'asp vediamo concorso in corruzione continuata soppressione falsità materiale ideologica di atti pubblici a fronte di condotte delittuose verificata all'interno dell'ispettorato territoriale del lavoro di catania tra la fine del 2017 primi mesi e il 2018 con queste accuse finanzieri del comando provinciale di catania hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare l'indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza vede quali destinatari della misura degli arresti domiciliari il direttore dell'ispettorato territoriale del lavoro domenico tito amic e la responsabile dell'ufficio legale dello stesso ispettorato maria rosa trovato nonché marco forzese già deputato regionale nell'ultima legislatura siciliana e candidato non eletto alle regionali del 2017 e antonino nicotra già consigliere nel comune di catania è stata inoltre disposta la misura interdittiva nei confronti di francesco luca attuale direttore sanitario dell'asp di catania sospeso per 12 mesi dall'esercizio del pubblico servizio per fatti concernenti sia l'attuale funzione che il suo ruolo di rappresentante legale dal 2009 al 2015 dell'enaip ignazio maugeri attuale rappresentante legale dell'enaip destinatario del divieto di esercitare attività di impresa assumere uffici direttivi in persone giuridiche giovanni patti titolare dell'omonimo studio commerciale con sede a giarre sospeso all'esercizio della propria attività professionale orazio emanuele rappresentante legale di società esercenti l'attività di stabilimenti balneari e di orto cultura e vivaistiche destinatario del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali salvatore calderaro gestore di una tabaccheria anche gli sospeso dall'esercizio di attività imprenditoriali le indagini hanno svelato l'esistenza all'interno dell'ispettorato di un consolidato circuito corruttivo alimentato da saldi legami di amicizia che uniscono corrotti e corruttori è stato appurato come il continuo scambio di utilità pacchetto di voti in cariche alla regione siciliana assunzioni in ospedale e fornitura di beni ruotasse intorno all'illegittima archiviazione di verbali originati dagli accertamenti ispettivi dai quali sono emerse spesso violazioni per lavoratori assunti irregolarmente o in nero in alcuni casi si è assistito anche alla materiale sparizione dei verbali stesi o comunque ad audizioni amichevoli nelle quali è stata palese la mancata tutela degli interessi era reale in gioco l'attività di indagine condotta alla guardia di finanza ha permesso di tracciare svariati procedimenti amministrativi gestiti in modo parziale dagli indagati e nei quali il potere discrezionale attribuito al direttore dell'ente pubblico anziché essere interpretato quale fonte di responsabilità è stato asservito alle volontà dei corruttori comprimendo così definitivamente gli interessi pubblici confliggenti a seguito dell'operazione l'assessore regionale mariella ippolito ha disposto l'invio immediato di un sostituto alla direzione dell'ispettorato territoriale del lavoro di catania per consentire la piena funzionalità del servizio nel rispetto della legalità. Il trasporto pubblico locale su gomme in Sicilia è a rischio a causa dei tagli imposti dalla finanziaria regionale l'allarme lanciato dall'Astra che raccoglie gli operatori del settore non è stato raccolto dal mondo politico e le conseguenze rischiano di essere a carico della mobilità dei siciliani e dei livelli occupazionali. Ascoltiamo Claudio Iozzi presidente di Astra Sicilia. Inspiegabilmente ci siamo trovati di fronte a un taglio che ci penalizza nel triennio 2018-2020 un taglio di circa il 19% in media se è vero che per l'anno corrente il taglio è stato ridimensionato e su cui comunque attendiamo risposta la nostra preoccupazione è per il futuro immediato degli altri dei prossimi anni dove già una programmazione dei servizi era stata approntata dalle aziende e anche degli impegni finanziari per cui siamo sotto la lente di ingrandimento dei nostri stakeholders per cui vorremmo delle risposte per sapere come poter meglio gestire le aziende. Ma in sostanza in che cosa si traduce questo taglio? In sostanza si traduce, al di là di questo, vorrei capire da un'interlocuzione che ancora non c'è stata nonostante le richieste dell'associazione col governo, si tradurrà al netto anche dei eventuali contenziosi che inevitabilmente nasceranno in una riduzione delle corse e col tempo in un blocco di quello che è il turnover del personale, non facendo più ricorso alla flessibilità con contratti a termine piuttosto che con le somministrazioni di lavoro come alcuni colleghi hanno fatto e quindi la dove c'era il blocco delle assunzioni comunque e quindi si andrà a invecchiare ulteriormente il personale di guida con un costo ancora maggiore e si andrà a ridurre quello che è la politica degli investimenti nel materiale rotabile delle aziende. Lei pensi che proprio la politica nazionale aveva permesso all'azienda di poter contare su degli investimenti per il nuovo materiale rotabile di cui una parte del finanziamento è garantito dalle stesse aziende? Quindi ora non sappiamo come andrà a finire con gli impegni già presi da questo punto di vista. Quindi si va a quello che noi abbiamo comunicato, una mediocrità dei servizi, una sempre più verso l'oblio e verso un non garantire quelli che sono i servizi minimi che già sono ridotti all'osso in questo momento nei confronti della cittadinanza sia a livello urbano che a livello exurbano. Quindi anche gli autobus cittadini oltre che i pullman? Sì, sia i servizi urbani delle grandi città ma anche dei centri più piccoli sia i servizi exurbani riceveranno questo taglio, subiranno questo taglio e questo a prescindere da quelli che sono i contratti già stipulati con i comuni o con la regione stessa. Quindi noi qua vogliamo un attimino cercare di uscire da questo circolo vizioso che si era venuto a creare con la passata legislatura che pensavamo si fosse archiviato dei tagli già subiti dove si era creato una sorta di assestamento al netto anche di alcune situazioni ancora da chiarire per alcuni grossi centri urbani. Però purtroppo vediamo che probabilmente la politica del trasporto ancora non è al centro dell'agenda del governo auspichiamo che lo sia per vedere un attimino di poter garantire questi servizi. Vogliamo capire come poter fare perché così il futuro è nero per il settore. Sarebbe dovuto iniziare oggi lo sciopero di 72 ore di circa 500 lavoratori portuali in Sicilia. Ieri pomeriggio però nel corso dell'incontro nella sede di Confindustria Palermo è stato raggiunto un accordo tra i delegati della Caronte in Turisti, Isole e Minori e i segretari regionali di Will Trasporti, Filt CGL e Filt CISL. Sospeso quindi lo sciopero in attesa di un nuovo incontro tra le parti previsto per l'8 di maggio. E Agostino Falanga, neosegretario regionale della Will Trasporti, a spiegare i motivi dell'avvertenza sulla quale ruota la certezza e la conferma della stabilità di lavoro per i 500 portuali. Vediamo. Poc'anzi si è conclusa la riunione presso Confindustria con i colleghi della GGL e della CISL e abbiamo scongiurato lo sciopero di 72 ore dei lavoratori portuali, circa 500 lavoratori. Ma cosa c'era al centro di questa avvertenza? Al centro di questa avvertenza c'è il fatto che l'armamento tutto, tutte le società di navigazione vorrebbero applicare l'autoproduzione. Cos'è l'autoproduzione? E' che il marittimo imbarcato a bordo dovrebbe fare il rizzaggio e il rizzaggio. Quello è quello che non è possibile e quindi annullerebbe quelle che sono la forza lavoro dei portuali e questo sono a rischio 500 posti di lavoro. Ecco perché abbiamo indetto lo sciopero di 72 ore in tutta la Sicilia dei lavoratori portuali. Rizzaggio e derizzaggio cosa significa? Rizzaggio e derizzaggio significa che questo lavoro che al momento lo svolgono i lavoratori portuali in questo caso con l'autoproduzione lo farebbero i marittimi e quindi ci sarebbe un problema per quanto riguarda anche le tabelle di armamento in quanto l'organico dovrebbe essere rafforzato affinché il marittimo abbia i tempi anche di riposo e non va a rizzare e deserizzare i mezzi che imbarcano sui porti siciliani. Ovviamente rizzare e derizzare per non addetti significa che vanno messe le catene e i mezzi pesanti dei mezzi che imbarcano a bordo sulle navi. Questo è rizzare e derizzare. Quindi c'è questo lavoro come dicevo poc'anzi che dovrebbero fare i portuali e lo farebbero i marittimi e questo in questo caso metterebbe a terra 500 lavoratori. Questa è la nostra preoccupazione ecco perché 72 ore di sciopero. Sciopero diciamo scampato ma avrete un nuovo incontro? Assolutamente sì. L'incontro riprenderà l'8 di maggio affinché questa criticità, questa problematica possa concludersi con esito positivo. Da parte dell'azienda c'è questa disponibilità. Il sindacato è disponibile a chiudere affinché veramente non ci sia un ricaduto occupazionale nel settore e che i lavoratori portuali possono avere quella stabilità mentale, quella certezza del posto di lavoro oltre alla sicurezza che non è cosa da poco. Anello ferroviario da stamattina nuova rivoluzione del traffico in centro a Palermo chiusa la via Amari e sospesa una parte dell'isola pedonale in via Principe di Belmonte è quanto prevede un'ordinanza dell'amministrazione comunale. Il provvedimento resterà in vigore fino al 21 dicembre. Nuova rivoluzione della via Abilità in centro a Palermo a partire da stamattina scattata la chiusura di via Merico Amari nel tratto compreso tra via Roma e via Principe di Scordia per consentire alla Tecnis di proseguire lavori per la realizzazione dell'anello ferroviario. Lo prevede un'ordinanza della Polizia Municipale, Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Territorio firmata dal dirigente Luigi Galatioto. Già piazzati i cartelli con i divieti di sosta su ambedue i lati della carreggiata. La strada sarà chiusa fino al prossimo 21 dicembre. Per non appesantire il traffico nella zona, visto che la via Amari da via Roma al porto non sarà percorribile, in questo lasso di tempo verrà sospesa l'isola pedonale nella parte bassa di via Principe di Belmonte tra via Roma e via Scordia. Per raggiungere via Crispi sarà possibile effettuare un percorso alternativo che inizia il Politeama nella parte alta di via Mari e prosegue in via Wagner, via Roma, via Principe di Belmonte, parte bassa. La via Crispi sarà raggiungibile anche da via Domenico Scinà. Il semaforo tra via Roma e via Mari funzionerà in modalità lampeggiante per fluidificare meglio il traffico. La nuova viabilità doveva entrare in vigore lo scorso 9 aprile, ma la Tecnis ha accumulato dei ritardi sulla tabella di marcia. La chiusura è così slittata stamattina. La mancata rimozione di alcuni deors tra via Principe di Belmonte e Piazza Florio, riferisce l'ufficio traffico del comune, ha però ulteriormente ritardato il tutto di 24 ore. Una nuova rivoluzione del traffico in centro, dunque, che non fa altro che accendere ancora di più gli animi dei tanti contrari, come consiglieri comunali di Sinistra Comune. La chiusura del tratto Principe di Scordia-Roma di via Mari a causa dei cantieri per l'anello ferroviario non può determinare l'apertura al traffico veicolare, sia pure provvisoria, della parte bassa di via Principe di Belmonte, affermano Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. Ogni metro di area pedonale eliminata rappresenta un metro di arretramento sulla visione della città vivibile. La zona, inoltre, malgrado la parziale chiusura di via Roma, è caratterizzata ormai, dopo i primi giorni, da una sostanziale fluidità del traffico. Ci sono diverse alternative alla sospensione dell'area pedonale. Riteniamo che l'ordinanza debba essere revocata al più presto, per non danneggiare cittadini e attività commerciali. Un ricco calendario di appuntamenti culturali è previsto dalla manifestazione Invisibilia, che si svolgerà da domani al 31 maggio, dalle ore 16 alle 20, ogni venerdì, sabato e domenica, nel Centro Storico di Palermo, dedicato alle parole, alle immagini e ai suoni del Sacro. Oggi la presentazione a Palazzo Arcivescovile. Abbiamo scelto questo mese di maggio per realizzare un festival del Sacro, della teologia della bellezza. L'abbiamo denominato Invisibilia, cioè tramite ciò che vediamo possiamo raggiungere l'invisibile, il mistero, la bellezza del mistero raccontato dalle nostre opere d'arte del Centro Storico di Palermo. In questo contesto le nostre opere d'arte effettivamente sono ricche di contenuti teologici. Sia le opere d'arte medievale, sia il nostro barocco, che sotto questo punto di vista è stato fino ad ora sottovalutato, è pieno di grande comunicazione teologica. Ma oltre che questo, Invisibilia è anche esperienza di preghiera, pregare tramite l'arte e quindi l'arte che si guarda, l'arte che si ascolta, la parola ascoltata e la musica che diventa elemento di comunicazione, di sensibilità. In più, Invisibilia è progetto di futuro, commettenza per il futuro. Di fatto all'interno del progetto abbiamo una serie di performance teatrale, si tratta di gruppi giovanili e teatrali che hanno studiato le Sarpotta e hanno messo in scena, metteranno in scena una loro visione, i contenuti teologici del Sarpotta, trasformati con un linguaggio teatrale. Domani l'apertura alle ore 19 a Casa Professa, con l'introduzione da parte della professoressa Massara della Facoltà Teologica, che racconterà la teologia nella chiesa di Casa Professa. Un modo anche per fondere il patrimonio monumentale con il patrimonio delle attività culturali, infatti questa è un po' anche la filosofia di questo festival, che mette insieme questi luoghi del sacro, insieme agli aspetti teologici, quindi all'applicazione, al racconto del sacro. Un progetto ancora una volta di collaborazione sinergica, che consente di mettere insieme diverse istituzioni a collaborare ad un'unica progettualità e che è inserito ovviamente all'interno del cartellone di Capitale Italiano della Cultura, in quanto i soggetti sono tutti partner del cartellone unico della città, che quest'anno, appunto nel 2018, si presenta come Capitale Italiano della Cultura e che arricchisce enormemente il già ricco calendario di iniziative. Ci sono cose visibili, ma ci sono anche cose invisibili. Le cose invisibili si guardano anche con gli occhi del cuore. Il cuore dice persona, dice l'umanità, dice ricchezza, dice cultura, però nel cuore si trovano anche le cose più vere, più profonde, per cui penso che la proposta che la Dioce si sta facendo abbia realmente una, direi, prospettiva di accompagnamento dei cammini di quanti arrivano a Palermo in questo anno della cultura. Attraverso la bellezza si fa cultura, ma una cultura che è capace di raggiungere il cuore dell'uomo. La città di Palermo si prepara ad ospitare Manifesta 12, la Biennale Europea di Arte Contemporanea, un evento molto importante che servirà anche al rilancio dell'economia e del turismo nell'isola. La città di Bageria, però, è come tagliata fuori da questo grande evento. A lanciare l'allarme il consigliere comunale Emilio Finocchiaro. Sentiamo perché. L'amministrazione, nella persona dell'assessore Romina Iel, ha presentato dei progetti di cui uno è stato accettato e benvenga il suo lavoro svolto per la nostra cittadinanza. Il problema sta nel fatto che io voglio portare questa mozione in aula, semplicemente perché mai manifesti alle porte perché comincia il 16 giugno, ma in realtà quei turisti, quei 5 milioni di visitatori che raggiungeranno Palermo, non hanno nessun mezzo di comunicazione per poter arrivare a visitare Bageria con le sue ville e per rilanciare la nostra città. E queste persone che potrebbero venire a Bageria potrebbero rilanciare anche dal punto di vista economico la nostra città. I turisti che vengono a Bageria a visitare le nostre ville non hanno la possibilità di trovare un taxi o un pulma che li possa riaccompagnare nel loro hotel oppure sono costretti ad andare alla stazione non conoscendo la città visto che vicino alla stazione non abbiamo nemmeno né un centro di comunicazione, informazioni o delle mappe che potrebbero aiutare i turisti. Nel penultimo consiglio comunale che abbiamo avuto non era stata inserita la mia mozione per una questione di tempistica forse perché ho presentato la mozione in ritardo nel consecutivo consiglio comunale avevo chiesto al Presidente se si poteva trattare la mia mozione ma in base agli accordi fatti nella loro gruppo si doveva trattare prima una delibera. Siccome avevo degli impegni lavorativi avevo preteso che, essendo una mozione importante per la nostra cittadinanza venisse trattata per prima cercando di metterla in votazione che non mi è stato concesso. Poi ho riprotocollato un'altra mozione una comunicazione dove chiedeva al Presidente entro il giorno 30 di avere un consiglio comunale ordinario per trattare questa mozione ma non è stato fatto e oggi ne ho presentato un'altra sperando che il Presidente del Consiglio abbia il buon senso di potermi accordare questo consiglio comunale perché oltre alla mia mozione ci sono altre mozioni che interessano la città di Bageria. Comunque il progetto della mia mozione è dovuto al fatto che io chiedo di collaborare in maniera democratica con tutti i rappresentanti dei partiti che ci sono all'interno dell'aula consigliare e dell'amministrazione per cercare di trovare degli accordi delle soluzioni anche con ditte private che abbiano la possibilità di noleggiare dei pullman per poter consentire a questi turisti che vengono a Palermo di poter visitare Bageria. Basta poco una piccola cifra da investire da poter utilizzare dei pullman che sono stazionati alla stazione centrale di Palermo che durante una turnazione di due o tre ore fanno il percorso per portare i turisti a Bageria che sarebbe una cosa veramente bellissima solleverebbe un po' la nostra economia in questi quattro mesi ripeto, vista l'affluenza prevista ad oggi di 5 milioni di visitatori. Sabato prossimo alle 18.30 a Palazzo Couto a Bageria si terrà una lezione concerto del pianista Gianluca Badon un evento organizzato dal CAM Centro Artistico Musicale con lo scopo di avvicinare grandi e piccoli alla musica classica. La musica non ha età e non è assolutamente non va relegato l'ascolto e la fruizione di questo tipo di capolavori della musica soltanto agli addetti ai lavori assolutamente no e un incontro come questo appunto che abbiamo deciso di strutturare come lezione e concerto invece che come solo concerto ha proprio questo scopo anche di poter avvicinare e rendere più fruibile possibile questa musica questa musica straordinaria. Ognuna di queste opere ha tanti spunti di riflessione e motivi di interesse di tipo musicale, artistico e così via dunque rifletteremo su questi e proverò appunto a spiegare a chi avrà il piacere e l'opportunità diciamo di venire a sentire a lezione concerto tutto quello che c'è dietro all'aspetto sia compositivo che anche performativo di questo tipo di musica. Spesso il nostro lavoro è proprio quello di far capire ai ragazzi, ai bambini in questo caso quando si tratta di bambini più piccoli ai genitori che sì, la musica è un gioco ma è un gioco quando si ha la competenza diciamo per giocare insomma quindi da qui c'è un bel lavoro da svolgere in cui l'impegno e la disciplina è fondamentale. Quali sono i corsi che attualmente sono attivi al CAM? Sì, allora come da un po' di anni i corsi attivi sono il violino pianoforte chitarra il corso di canto canto moderno la propria deutica musicale è appunto destinata ai bambini d'età prescolare il corso di batteria e tromba e flauto traverso e poi insomma abbiamo sempre in divenire dei laboratori paralleli all'attività di musica che riguardano anche il movimento il teatro circo ultimamente abbiamo un laboratorio attivo che sta riscuotendo abbastanza successo insomma quindi cerchiamo di dare un'offerta più ampia possibile allora vi aspettiamo sabato 5 maggio alle 18.30 per la lezione concerto di Gianluca Badon qui nel piano nobile della sala del pianoforte di Palazzo Couto a Bageria è tutto grazie per l'attenzione come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni a Bageria a Bageria Grazie a tutti.